Fabrizio, giovane ballerino di Caserta, studia dall'età di 9 anni. Presto si trasferì a Milano per perfezionare gli studi. Nella compagnia del Teatro alla Scala sono rimasto due anni e ho avuto modo di cominciare a girare il mondo. Sono stato in Russia, in Giappone, Cuba, Inghilterra, Francia. La passione si è accentuata ancora di più. Il nuovo modo di conoscere, altre compagnie, altri stili diversi. In Italia però la situazione era abbastanza difficile per quanto riguarda i contratti alla Scala di Milano. Quindi sono partito per la Spagna. Sono rimasto tre anni in Spagna e durante uno spettacolo dove ballavo appunto da primo ballerino sono stato notato da Manuel Egrì, direttore dell'Opera di Vienna. All'Opera di Vienna sono rimasto due anni. E' stata una bellissima esperienza artisticamente però mi mancava la mia vita. Allora ho deciso di fare una vacanza e sono arrivato qui a Buenos Aires. Anche quando siamo in vacanza noi ballerini non ci fermiamo mai. Dobbiamo rimanere allenati e forti. Quindi ebbe in modo di prendere parte a delle lezioni al Teatro Colón. Mi innamorai di questo teatro ovviamente. Il momento dell'audizione è stato per me emozionantissimo perché il teatro mi aveva innamorato totalmente e quando mi hanno detto di sì è stata una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Essere parte di questo teatro era un sogno. Qui a Buenos Aires io sono felice, sono molto felice. Ho un bel lavoro nel Teatro Colón però sicuramente la mia famiglia mi manca tantissimo. Ciao mamma, ti voglio bene, ti ho sentito vicino sempre qua e i miei fratelli tutti vi amo. In me, di profondamente italiano, c'è sicuramente il temperamento e la passione. Lavorando all'estero ho sempre sentito la nostalgia dell'Italia. Poter ballare per l'Italia qui a Buenos Aires mi ha fatto sentire un po' a casa. Era come se fossi a casa e ballassi nel mio paese. Una bellissima ed emozionante coreografia creata da Fabrizio Coppo. Si esibirà per noi in un passo a due e per l'occasione sarà accompagnato dalla bravissima Natalia Pelagio. e per l'occasione sarà accompagnato Grazie a tutti.